Rigenerazione urbana e riforestazione. Dove c'era cemento ed edifici fatiscenti, sorgerà un giardino urbano di biodiversità con molteplici applicazioni. Nella variante generale al piano regolatore del 2021 abbiamo individuato ben quattro aree molto grandi, centrali, all'interno della città, che sono meritevoli di interventi di rigenerazione urbana, sia pubblici che privati. Nel caso di oggi siamo in una zona centralissima, nella prima espansione che è avvenuta oltre a quello che è il centro storico tradizionale di Contrada Maggiore e non ha poi più subito nessun tipo di riqualificazione. Ma la rigenerazione è molto di più. Quello che noi vogliamo fare andando ad acquisire un'area centrale e decostruirla, renderla a disposizione dei cittadini e creando nuovi collegamenti pedonali e ciclabili è quello di dare un nuovo ciclo di vita a una zona che al momento è fortemente degradata. Siamo in via Fratelli Bandiera, ma siamo proprio nel cuore pulsante della città, tra piazza 20 Settembre e piazza Risorgimento. Verranno abbattuti gli edifici abbandonati e degradati che costeggiano via Fratelli Bandiera, dietro ex gelateria artigiana, per lasciare spazio ad una grande area verde con una roggia riscoperta. È un progetto che per la prima volta comincia a demolire in città edifici fatiscenti per restituire suolo e verde ai nostri cittadini e alla nostra città. È un progetto sostenibile perché la decostruzione selettiva, ovvero lo smontaggio degli edifici secondo delle precise norme e certificazioni, entra in quella che è l'economia circolare, per cui il recupero dei rifiuti, la differenziazione, per cui un progetto sostenibile a 360 gradi. Suolo, rifiuti, verde. Si tratta di un progetto molto importante di riqualificazione di un'area fortemente degradata, cioè di un giardino completamente circondato da cattapecche, vecchie abitazioni, case disabitate che sicuramente non era un buon biglietto da visita per la città. Abbatteremo tutto restituendo a Pordenone invece un giardino bellissimo e una roggia che in questo momento è coperta. Significa non fare consumo di suolo, ma al contrario restituire suolo ad una città che nel passato ha conosciuto un'eccessiva cementificazione. Dall'altro lato avere anche una qualità ambientale che va a migliorare. Significa anche mettere in collegamento con una cintura che in questo momento non c'era la zona centrale con la zona di via Dante. Quindi tanti obiettivi, tanti scopi positivi, con un investimento sicuramente importante, ma che migliorerà notevolmente la qualità di vita di Pordenone.